il signor l'antan dopo aver incontrato quella ragazza a una festa in casa del suo vice capufficio fu avvolto dall'amore come in una rete era la figlia di un esattore di provincia morto da parecchi anni era venuta a parigi con la madre che aveva preso a frequentare alcune famiglie borghesi del quartiere nella speranza di trovare marito alla giovane erano povere e dignitose tranquille e amabili la sua modesta bellezza aveva il fascino di un angelico pudore e l'impercettibile sorriso che non lasciava mai le sue labbra sembrava un riflesso del suo cuore tutti ne cantavano le lodi coloro che la conoscevano non facevano altro che ripetere fortunato chi se la piglierà non si potrebbe trovare una donna migliore l'antan che era allora archivista capo al ministero degli interni con lo stipendio annuo di 3500 franchi la chiese in moglie e la sposò con lei fu straordinariamente felice lei amministrò la casa con un'economia tanto accorta che pareva vivessero nel lusso non c'erano attenzioni delicatezze moine che ella non avesse per il marito e tale era il potere della sua seduzione che dopo sei anni dal loro incontro lui l'amava ancora più dei primi giorni le rimproverava soltanto due debolezze quella del teatro e quella dei gioielli falsi le sue amiche conosceva alcune mogli di modesti funzionari le procuravano continuamente dei palchi per le rappresentazioni di successo e perfino per le prime e per amore o per forza lei si trascinava dietro il marito che dopo la giornata di lavoro si annoiava tremendamente a simili passatempi lui la supplicò allora di andarci con qualche signora di sua conoscenza che poi avrebbe potuto riaccompagnarla a casa ci volle molto tempo prima che lei cedesse perché trovava sconveniente questo modo di fare infine si decise per fargli piacere e lui gliene fu infinitamente grato ben presto questo suo gusto per il teatro fece nassere in lei il bisogno di adornarsi i suoi vestiti rimasero sempre molto semplici di buon gusto sì ma modesti e la sua grazia dolce irresistibile umile e sorridente pareva acquistare un nuovo sapore dalla semplicità dei suoi abiti ma lei prese l'abitudine di mettersi alle orecchie due grosse pietre del reno che parevano diamanti e portare delle collane di perle false braccialetti di similoro pettini adorni di varie pietruzze di vetro che imitavano pietre di valore suo marito un po' contrariato da quell'amore per la bigiotteria ripeteva spesso mia cara quando non si ha la possibilità di comprarsi dei gioielli veri ti si adorna soltanto della propria bellezza e della propria grazia che sono sempre i gioielli più rari ma lei sorrideva con dolcezza e rispondeva che vuoi farci mi piacciono tanto è il mio debole so bene che hai ragione ma non posso cambiare mi sarebbe tanto piaciuto avere dei gioielli e si faceva scorrere fra le sue dita le collane di perle scintillare le faccette dei cristalli tagliati ripetendo ma guarda guarda come sono fatti bene si giurerebbe che sono veri il marito dichiarava sorridendo hai dei gusti da zingara qualche volta la sera quando rimanevano soli seduti accanto al fuoco lei portava sulla tavola dove prendevano il tè la scatola di marocchino dove teneva chiuse le sue cianflusaglie come le chiamava l'antenna e si metteva ad esaminare quei gioielli finti con un'attenzione appassionata come se assaporasse un godimento segreto e profondo e voleva mettere per forza una collana al collo del marito e poi ridere di cuore esclamando come sei buffo e gli si gettava tra le braccia baciandolo con passione una notte d'inverno dopo essere stata all'operà rincasò scossa da brividi il giorno dopo aveva la tosse otto giorni dopo moriva per un'infiammazione ai polmoni per poco l'antenna non la seguì nella tomba la sua disperazione fu così tremenda che in un mese i capelli gli diventarono tutti bianchi piangeva da mattina a sera con l'anima straziata da un dolore insopportabile ossessionato dal ricordo dal sorriso dalla voce dalle grazie della defunta il tempo non placò il suo dolore spesso nelle ore d'ufficio mentre i colleghi facevano quattro chiacchiere sugli avvenimenti del giorno all'improvviso gli si vedevano le gote gonfiarsi il naso raggrinzirsi gli occhi riempirsi di lacrime faceva una smorfia paurosa e cominciava a singhiozzare aveva serbato intatta la camera della sua compagna dove si godeva tutti i giorni per pensare a lei e tutti i mobili i vestiti persino erano rimasti al loro posto come si trovavano l'ultimo giorno però la vita cominciava a farsi dura per lui il suo stipendio che in mano alla moglie bastava a tutti i bisogni della casa ora non era sufficiente neppure per lui solo e si chiedeva con stupore come lei avesse potuto destreggiarsi per fargli bere sempre vini d'annata e mangiare cibi delicati che ora non poteva più procurarsi con le sue modeste risorse fece qualche debito e molte economie come tutte le persone ridotte a vivere di espedienti poi una mattina siccome si trovava senza un soldo e mancava una settimana alla fine del mese pensò di vendere qualcosa e gli venne subito in mente l'idea di disfarsi delle cianfrusaglie della moglie perché in fondo al cuore aveva serbato come una sorta di rancore per quel falsume che un tempo lo irritava soltanto il vederli ogni giorno gli sciupava un po' il ricordo della sua diletta cercò a lungo nel mucchietto luccicante di false gioie che ella aveva lasciato poiché fino agli ultimi giorni di vita aveva continuato ostinatamente a comperarne portando a casa quasi ogni sera un oggetto nuovo e si decise per una grande collana che lei sembrava preferire pensando che potesse valere sette o otto franchi perché per essere falso era veramente un lavoro fatto con molta cura si la messe in tasca e si avviò verso il ministero per i boulevard cercando un gioielliere che gli ispirasse fiducia alla fine ne vede uno ed entrò vergognandosi un po' di mettere così in mostra la sua miseria nel cercare di vendere un oggetto di così scarso valore signore, disse al gioielliere vorrei sapere quanto stimate questo oggetto l'uomo lo prese lo esaminò lo rigirò lo soppesò prese una lente di ingrandimento chiamò il commesso e gli fece qualche osservazione sottovoce rimise la collana sul banco e la guardò di lontano per giudicarne meglio l'effetto l'antenne era imbarazzato da tutte quelle cerimonie e stava per aprire bocca e dire oh, lo so bene che non ha nessun valore quando il gioielliere disse questa collana vale da 12 a 15 mila franchi ma non posso comperarla se prima non me ne fate conoscere l'esatta provenienza il vedovo spalancò gli occhi e rimase a bocca aperta alla fine balbettò ma davvero? ne siete sicuro? l'altro fraintese il suo stupore e disse con tono asciutto potete andare da un altro e vedere se vi danno di più per me vale al massimo 15 mila franchi tornate da me se non trovate di meglio l'antenne completamente stupidito si riprese la collana e se ne andò obbedendo ad un confuso bisogno di rimanere solo e di riflettere ma appena fu in strada gli venne voglia di ridere e pensò che imbecille! se però lo avessi preso in parola ecco un gioielliere che non è capace di distinguere la roba vera da quella falsa entrò in un'altra bottega all'inizio di Ruy de la P l'orefice appena vide il gioiello esclamò ah per bacco la conosco bene questa collana viene dal mio negozio molto turbato l'antenne chiese quanto vale? l'ho venduta per 25 mila franchi signore sono pronto a riprenderla per 18 mila quando mi avrete detto in obbedienza alle disposizioni di legge come ne siete venuto in possesso stavolta l'antenne si siedette folgorato dallo stupore disse ma 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 guardatela bene signore fino a questo momento avevo creduto che che fosse falsa e gioielliere riprese volete dirmi il vostro nome signore certo mi chiamo l'antenne sono impiegato al ministero degli interventi abito in rue de martyre 16 il negoziante aprì i suoi registri cercò e poi disse questa collana è stata mandata infatti all'indirizzo di madame l'antenne in rue de martyre 16 il 20 luglio 1876 i due uomini si guardarono negli occhi l'impiegato smarrito per la sorpresa l'orefice sospettando di trovarsi di fronte ad un ladro potete lasciarmi questo oggetto soltanto per 24 ore riprese l'orefice vi faccio una ricevuta l'antenne belbettò ma sì sì certo e uscì ripiegando il foglietto e mettendoselo in tasca attraversò la strada la risali si accorse di aver sbagliato direzione ridiscese alle tuieri passò sulla senna si accorse di aver sbagliato ancora e ritornò all'isciampelise senza avere in testa una sola idea chiara si sforzava di ragionare di capire sua moglie non aveva potuto comprare un oggetto di simile valore no di certo ma allora si trattava di un regalo un regalo di chi perché si era fermato e rimaneva immobile in mezzo al viale l'orrendo dubbio lo sfiorò lei allora anche gli altri gioielli erano altrettanti regali mi parvi che la terra oscillasse che un albero davanti a lui crollasse tece le braccia e cadde privo di sensi riprese conoscenza in una farmacia dove lo avevano portato alcuni passanti si fece condurre a casa sua e vi si rinchiuse pianse disperatamente fino a notte affranto dalla fatica e dal dolore e dormì di un sonno pesante lo svegliò un raggio di sole e si alzò lentamente per andare al ministero dopo una simile scossa era penoso lavorare pensò allora che poteva scusarsi col capufficio e gli scrisse poi gli venne in mente che doveva ritornare dal gioielliere e diventò rosso per la vergogna rimase a lungo a riflettere ma non poteva lasciare la collana in mano a quell'uomo si vestì e uscì era bel tempo il cielo azzurro si stendeva sulla città e pareva sorridere alcune persone bighellonavano davanti a lui con le mani in tasca vedendole passare l'anten si disse come si è felici quando si ha i soldi col denaro ci si può liberare anche dei dispiaceri si va dove si vuole si viaggia ci si distrae oh se fossi ricco si accorse di aver fame infatti non mangiava da due giorni ma aveva le tasche vuote e si ricordò della collana diciotto mila franchi diciotto mila franchi era una somma quella raggiunse lui della pe e si mise a passeggiare su e giù sul marzapiedi di fronte alla bottega diciotto mila franchi venti volte fu lì per entrare ma la vergogna lo tratteneva ogni volta ma aveva fame molta fame e nemmeno un soldo in tasca si decise all'improvviso attraverso la strada di corsa per non avere il tempo di riflettere e si precipitò nella gioielleria l'orefice appena lo vide accorse premuroso e gli offrì una sedia sorridendo con gentilezza arrivarono anche i commessi che guardavano in tralizia l'antenne con dei lampi di allegria negli occhi e sulle labbra il gioielliere disse mi sono informato se siete sempre della stessa idea sono pronto a pagarvi la somma che vi avevo proposto ma certamente balbettò l'impiegato l'orefice tirò fuori da un cassetto diciotto grandi biglietti ricontò riporse all'antenne il quale firmò una ricevuta e si mise in tasca il denaro con mano fremente poi mentre stava per uscire si voltò verso il negoziante che continuava a sorridere e disse abbassando gli occhi ho ho degli altri gioielli che mi vengono dalla stessa eredità sareste disposto ad acquistare anche quelli? il negoziante si inchinò ma certo signore uno dei commessi uscì per ridere con comodo un altro si soffiava rumorosamente il naso l'antenne impassibile rosso e serio disse ora ve li porto e prese una carrozza per andare a prendere i gioielli quando un'ora dopo tornò al negozio non aveva ancora mangiato si rimisero ad esaminare i gioielli pezzo per pezzo stimandoli quasi tutti provenivano da quel negozio ora l'antenne discuteva le offerte si arrabbiava esigeva che gli fossero mostrati i registri delle vendite e man mano che la somma aumentava parlava a voce sempre più alta i grossi orecchini di diamanti valevano 20.000 franchi i brazzaletti 35.000 le spille gli anelli e i medaglioni 16.000 una parur di smeraldi e zaffiri 14.000 un solitario sospeso a una catena d'oro che formava collana 40.000 il tutto raggiungeva la cifra di 120.000 franchi il negozante disse con ironica bonomia questa è una persona che spendeva in gioielli tutti i suoi risparmi è un modo come un altro di investire il proprio denaro rispose gravemente l'antenne e se ne andò dopo aver stabilito col gioielliere che il giorno dopo ci sarebbe stata una controperizia appena fu in strada guardò la colonna van d'homme con la voglia di arrampicarvi come se fosse stato l'albero della cuccagna si sentiva così leggero che avrebbe salutato a piepari la statua dell'imperatore arrampicata lassù nel cielo andò a mangiare da voisin e beve vino da 20 franchi la bottiglia poi prese una carrozza e fece un giro al bois guardava le altre vetture con un certo disprezzo con una voglia matta di gridare ai passanti anch'io sono ricco possiedo 200.000 franchi si ricordò del ministero ci si fece portare entrò risolutamente dal capufficio e annunciò signore vengo a presentarvi le mie dimissioni ho ereditato 300.000 franchi andò a salutare i suoi ex colleghi confidando loro il suo progetto di nuova vita poi andò a mangiare al caffè anglais poiché si trovò accanto un signore di aspetto distinto non poter esistere alla smania di confidarvi con un certo compiacimento che aveva ereditato 400.000 franchi per la prima volta in vita sua non si annoiò a teatro e passò la notte con due puttane sei mesi dopo si riposava la sua seconda moglie era onestissima ma con un brutto carattere lo fece soffrire molto con un brutto carattere con un brutto carattere con un brutto carattere